Il Foggia dopo i due pareggi consecutivi nei derby contro Taranto e Bari torna al successo allo Zaccheria superando 3 a 2 il Picerno in quello che alla vigilia è stato definito uno scontro importante in chiave playoff. Le dichiarazioni al veleno di Zeman in settimana sui mancati investimenti del presidente canonico nel mercato di gennaio hanno scosso l'ambiente ma la risposta della squadra è arrivata sul campo. Dopo una prima fase di studio il Foggia a fare la partita. Al diciassettesimo Ferrante salta due difensori e calcia. Viscovo blocca senza fanno. Brividi per i tifosi rossoneri al trentaquattresimo quando Petterman perde un pallone sanguinoso in fase difensiva. Gerardi calcia da posizione defilata strepitosa la risposta di Dalmasso. Scampato il pericolo un minuto dopo il team di Zeman trova il vantaggio. Avvolgente azione d'attacco. Ferrante calcia da posizione centrale e colpisce una clamorosa traversa. La difesa lucana non riesce ad allontanare. Petterman calcia con il mancino dalla distanza. Viscovo respinge e sulla palla si avventa Ferrante che in posizione regolare deposita in rete. 1 a 0 per il Foggia e tredicesima rete stagionale per il numero 9 che festeggia sotto la Sud. Al quarantesimo lo stesso Ferrante su un superassist di Curcio firma la sua doppietta ma l'assistente strozza l'urlo di gioia dello Zaccheria segnalando un fuorigioco che resta molto dubbio. Prima dell'intervallo nuova occasione per i nosoneri con Merola che vince un rimpallo in aria e calcia. Palla che scheggia la traversa. si va a riposo con i satanelli avanti di una rete. Ad inizio ripresa sono i lucani ad andare vicino al pari. Vivacqua ruba la sfera sull'au di destra e mette al centro intervento. Goffo di Garattoni sulla palla si avventa D'Angelo che spedisce clamorosamente a lato come nella prima frazione. Dopo il pericolo scampato il Foggia trova nuovamente la via della rete al 54esimo. Bolide dei 30 metri di Petterman che piega le mani di Viscovo e firma il 2 a 0. Doppio vantaggio foggiano che dura appena 6 minuti perché il Picerno torna in partita. Vivacqua scatta sul filo del fuorigioco e con un preciso pallonetto supera Dalmasso. Reazione rabbiosa del Foggia e al 63esimo dopo un'ottima azione di Petterman Merola non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Nuova occasione al 78esimo per Ferrante che riceve palla da Curcio si accentra e calcia. Palla alta sopra la traversa. Due minuti dopo sempre un indomabile Ferrante trova la respinta dell'estremo Lucano. All'ottantunesimo arriva finalmente il meritato Tris e la doppietta personale dell'attaccante numero 9 che con un preciso diagonale buca Viscovo e fa 14 in campionato chiudendo la contesa. In pieno recupero c'è spazio anche per la seconda rete lucana con il colpo di testa di Parigi ma i tre punti vanno al Foggia che sale a 44 punti in classifica e mercoledì affronterà in trasferta la Paganese.